Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti passeggeri sono aumentati, abbiamo oggi circa 120 navette per le scuole, la prima preoccupazione è garantire agli studenti di rientrare al 70% alle scuole superiori, 120 navette punto punto sulle scuole. Poi abbiamo potenziamenti anche in superficie metropolitana, abbiamo il massimo che potevamo fare, chiediamo ai cittadini di non usare il trasporto pubblico tra le 8 e le 9, è la fascia più densa, dilazioniamo gli orari, mezz'oretta prima o mezz'oretta dopo permette di viaggiare tutti sicuri e dove è possibile usare la bici. Per ora sta funzionando, adesso questa è l'ora più critica sia per il trasporto pubblico che per il trasporto privato, siamo convinti che fare il massimo e chiedere la collaborazione ai cittadini sia la strada giusta. In tarda macchinata avremo un po' il polso, in genere il pomeriggio è più diluito per natura, i problemi veri sono tra le 8 e le 9, dobbiamo di capire insieme e poi di correggere man mano e anche di spostare alcuni bus seguendo quelle che sono le linee più cariche. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao buona giornata. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi.